Oh funziona ragazzi MT Oh ragazzi ci siamo, siamo entrati nella programmazione di MTV Pulse Questa roba è un po' scomoda adesso Io credo che l'esperimento sia riuscito però Penso che ci vediamo lo stesso Se la tolgo Quanti capelli hai? Troppi Infatti lo vedo Ci siamo ci siamo Credo che sta roba qua funziona Cioè serva veramente Sembrava dei tubi di una doccia Quindi per stare in onda devi tenerti queste cose qua Come sempre Cioè no, forse poi con gli occhiali Ti prego di me che Meno male perché è un disastro Posso levare anche se mi donavano un po' No 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 No